Capricetti Paracadutismo Invio Attenzione a questi due pazzi volanti Beh, volanti Ma che atterraggio, complimenti Coppie sul deltaplano Ma dove vanno? Ma dove vanno? Ma dove vanno? Ma dove vanno? Pa, pa, pa Dopo l'innominato è il momento degli acrobati dell'aria Grazie per la visione Grazie per la visione L'esperto pilota Un po' di acrobazie col paracadute e moto d'acqua Tranquilli è solo un modellino Però va a fondo Guardate il deltaplano Ma vola per conto suo dai E adesso una simpatica gita in battello Grazie a tutti